La nuova Prius Plus combina il tradizionale DNA Prius caratterizzato da consumi efficienti e rispetto per l'ambiente con livelli di spazio e versatilità davvero MPV. La Prius Plus è infatti più lunga, più larga e più alta rispetto alla Prius e con un passo più lungo. Oltre a questo l'interno della Prius Plus è ancora più ampio rispetto a quello della Prius. Con una distanza tra la prima e la terza fila, i vertici della categoria e ancora più spazio per la testa degli occupanti, la nuova Prius Plus può ospitare in maniera confortevole ben sette persone. Il layout con sette posti è stato reso possibile grazie all'installazione di un nuovo pacco batterie agli ioni di litio. Le dimensioni compatte della batteria ne hanno permesso l'installazione all'interno della console centrale, sfruttando al meglio lo spazio con la creazione di una nuova fila di sedili e un volume di stivaggio superiore a quello della Prius. I sedili della seconda fila possono essere ripiegati in maniera indipendente, ottenendo una ripartizione dello spazio ancora più funzionale e comoda per gli occupanti. E i tre sedili possono essere ripiegati completamente per massimizzare la capacità di carico, oltre a poterli reclinare garantendo la massima comodità. Anche i sedili della terza fila possono essere ripiegati singolarmente. Inoltre, oltre alla regolazione dell'inclinazione dello schienale, la terza fila dei sedili offre un ampio spazio per i piedi sotto la seconda fila di sedili antistante. Grazie alle comode leve di rilascio one touch collocate sugli schienali dei cinque sedili, la nuova Prius Plus offre ai passeggeri il massimo della funzionalità e della comodità. La nuova Prius Plus si dimostra inoltre estremamente versatile, sia dal punto di vista dei sedili che dello spazio di carico. Con un'apertura del portellone più larga e più alta rispetto al modello convenzionale, la Prius Plus ha un volume di carico di 232 litri, compresi i 60 litri collocati al di sotto del pianale di carico. Il ripiegamento completo della terza fila di sedili permette di incrementare questo spazio fino a 784 litri e con il ripiegamento anche della seconda fila di sedili è possibile raggiungere l'incredibile capacità di 1750 litri. La nuova Prius Plus si rivolge a tutti coloro che sono stati conquistati da Prius, ma che necessitano di ulteriore spazio. È il primo veicolo a unire la versatilità dei sette posti ai benefici della trasmissione full hybrid.